Bentornati, nuova lezione del corso Tinkercad, in questa lezione vedremo come modificare le forme importate. Bene, iniziamo subito. Iniziamo dalle forme base, prendiamo un cubo, trasciniamolo all'interno del piano di lavoro e vediamo. Allora, nella lezione precedente abbiamo visto che volendo il cubo può essere modificato, quindi possiamo modificare lunghezza, larghezza e altezza già a partire dalla finestra forma, quindi andando a impostare manualmente anche un valore. Torniamo al valore base di 20. In realtà, molto spesso, la maggior parte delle volte per modificare un oggetto utilizzerete queste maniglie che vedete qui. L'oggetto ha dei cubi bianchi sugli angoli, dei cubi neri nel punto medio del lato. Se ruotiamo un po', questo triangolo nero sopra sulla faccia in alto, eccolo qua, questo cubo nero. E poi queste frecce a doppia punta. Bene, andiamo a vedere queste maniglie una per volta. A cosa servono? Allora, prima di tutto, le maniglie nere, quindi quelle che trovate nel punto medio dei lati, vi permettono di andare a deformare una sola dimensione, quindi un solo lato. Per deformarlo, l'oggetto va selezionato. Quando ci passate sopra con la freccia e cliccate, vedete, il cubo è diventato rosso. Zoomiamo. Mi avvicino per farvi vedere meglio. Ok, quindi io voglio prendere questo cubo, eccolo qua, clicco e trascino. E come vedete, ora mi sto spostando di un millimetro alla volta. Se vi ricordate, in una delle lezioni precedenti vi ho parlato della griglia di snap, quindi di quanto il mio oggetto viene spostato o deformato. Bene, quindi se volessi provare a farlo di 5 millimetri, vedrete che gli scatti, eccolo qua, che fa il mio solido, sono molto più netti. Bene, questo naturalmente dipende un po' da quanto dobbiamo modificare l'oggetto. discorso simile è con le maniglie bianche. La differenza qui qual è? Che, come potete vedere, io in contemporanea, quando vado ad agire sulle maniglie bianche, modifico le due dimensioni, X e Y. Ok, per cui questo mi fa scalare l'oggetto nelle due dimensioni. Quella che resta fissa è l'asse Z. Bene, quindi io qui ora sto variando, vedete, due dimensioni, ma la Z rimane fissa. Se volessi variare invece l'asse Z, ho il cubo bianco qui in alto. Bene, con questo vado a modificare solamente la dimensione dell'asse Z. Naturalmente tutte queste variazioni che faccio manualmente le posso fare anche da tastiera andando a scrivere un numero all'interno di questo spazio. Quindi lo seleziono. Ho scritto 20. Ok, avete visto il mio oggetto è andato a dimensione. A volte, spesso in realtà, è comodo poter variare due dimensioni in maniera uniforme. Bene, quindi è sempre difficile variarle manualmente in maniera uniforme. Già, guardate, se io volessi riportare questo cubo al 20-20 di partenza agendo sulle maniglie bianche non è facilissimo, ok? Perché bastano veramente spostamenti minimi. Ecco, questi valori poi non tornino. Quindi in questo caso posso andare, come vi dicevo prima, o cliccando una volta sul cubo, eccolo qua, a bloccare le dimensioni e poi scriverle manualmente, oppure forse più comodo posso utilizzare il tasto Shift della tastiera. In questo momento lo faccio in maniera uniforme, quindi vado a variare tutte le dimensioni del mio oggetto. In questo caso, ve lo giro dal lato frontale, vado a variare, eccola qua, anche l'altezza. Quindi quando utilizzate il tasto Shift state scalando in maniera uniforme tutto l'oggetto. Quali altre operazioni si possono fare sui solidi, allora un'altra molto comune è ruotarli. Quindi per ruotare il solido avete queste maniglie, queste frecce a doppia punta che vi facevo notare prima. Ogni freccia ruota il cubo su un'asse, per cui rispetto all'asse Z ruota in questo modo e se vedete la rotazione può avvenire in due modi diversi. Mi avvicino e ve la faccio vedere meglio. Ok, una volta che cliccate la freccia, bene, voi avete due diverse scale graduate. Una interna che ha degli indicatori molto distanti tra loro, ok? Circa 22,5 gradi, quindi 22,5, 45 e così via, 90, 135, 180 e così via. Per cui se mantenete la freccia all'interno del cerchio più interno il vostro oggetto si muoverà per scalini diciamo abbastanza ampi. Se al contrario tenete la freccia più lontana, quindi vedete la selezione, il cerchio azzurro che si sposta dal cerchio interno al cerchio esterno. In questo caso avete la possibilità di ruotare l'oggetto in modo molto più graduale, un grado per volta anche se volete. Avete l'indicazione giusto per avere dei punti di riferimento a 5 gradi, quindi avete le frecce più lunghe che sono i 45 gradi, ok? Scusatemi, eccolo qua, quindi se voglio fare il 45 esatto ho il riferimento, altrimenti avete delle segnalazioni dei segnali a ogni 5 gradi, per cui in questo modo potete andare a ruotare l'oggetto con una maggior precisione, bene? Ok, io ora vi sto facendo vedere tutto con il cubo, per semplicità naturalmente ogni forma vi permette di fare esattamente la stessa cosa. Quindi se voglio ruotarlo in un'altra dimensione la cosa più comoda da fare è cambiare la vista, quindi trovarsi nella vista migliore, dopodiché, eccolo qua, posso andare a ruotare il mio cubo o in maniera graduale oppure in maniera continua. Bene, per cui avete tre assi di rotazione, questo è l'altro, sempre il solito discorso, che vi permettono di muovere i vostri solidi. Bene, ricordatevi sempre di navigare per capire bene qual è navigare con il tasto destro del mouse, quindi con la funzione orbit, per capire qual è il lato migliore per ruotare il vostro oggetto. L'ultima maniglia che vi dà la possibilità di modificare l'oggetto, anche se non è una modifica vera e propria, è il triangolo, il nero in alto. Questo, cliccando e trascinandolo, vi dà la possibilità di alzare o abbassare il vostro oggetto dal piano di lavoro, quindi dal punto zero. Vedete via via che mi sposto qui in basso, eccola qua, viene una freccia che vi dà l'indicazione dello scostamento dal piano zero, quindi dal punto zero. Ricordatevi sempre tutte le misure che visualizzate sono espresse in millimetri, quindi 20 millimetri vuol dire due centimetri, ok? Questo è una funzione sicuramente comoda se dovete andare a costruire oggetti sovrapposti uno sull'altro, bene? Per cui questa è la funzione che vi dà la possibilità di spostarlo solamente sull'asse Z, perché naturalmente in X e in Y basta prendere il cubo e trascinarlo. In realtà è una funzione che avete comunque, perché se vedete tutte le volte che spostate il vostro cubo, compaiono questi due riferimenti cartesiani che vi danno la distanza dal punto zero da cui siete partiti. Benissimo, con questo si chiude anche questa lezione e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti!